Cari telespettatori benvenuti a Primo Cittadino, la puntata di questa sera ospita per la prima volta il sindaco di Pergola Simona Guidarelli. Benvenuta nei nostri studi sindaco. Grazie. Grazie a tutti. 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 della stagione estiva per un importo circa di poco più di 5 milioni su tutti i territori dell'alta parte del Pesarese, poi però ne serviranno molti di più per ripristinare le strutture e tornare a una normalità, la normalità è ancora purtroppo molto lontana per alcuni luoghi. E la chiesa di Santa Maria delle Tinte? La chiesa di Santa Maria delle Tinte è stata danneggiata nel suo interno, non nella struttura fortunatamente, e fin dai primi giorni la soprintendenza e il Ministero dei Beni Culturali sono intervenuti in maniera molto celere e anche portando via tutte le opere all'interno che erano state proprio colpite dall'alluvione e quindi si è avviato tutto il percorso parallelamente a tutti gli altri lavori, a tutti gli aiuti alla popolazione, ai lavori che sono necessari e si è attivato questo percorso parallelo a salvaguardia proprio delle opere che erano all'interno. Fortunatamente la struttura non è stata danneggiata. Tra l'altro è entrata a far parte anche dei cosiddetti luoghi del cuore? Sì, sì esatto. Un bel riconoscimento. Sì, è un bel riconoscimento e sicuramente è un luogo molto importante al quale tutta la comunità è affezionata, è un luogo molto importante nella nostra storia anche dal punto di vista turistico, ma soprattutto ancora diverse famiglie di quel quartiere sono in difficoltà e quindi ecco quella è sicuramente la prima attenzione di tutti noi. Passiamo adesso alla sanità, un altro argomento caldo e sentito da tutta la popolazione. Parlando di medici di base insufficienti, lei aveva chiesto una risposta all'assessore Saltamartini, servono sostegni, servono incentivi, quali sono le carenze se ci sono ancora che registrate nel territorio? Sì, i nostri territori fanno veramente una fatica enorme perché molti servizi sono carenti, i territori interni si spopolano sempre di più e le difficoltà sono veramente grandi. In particolare in questo caso riguardo i medici di base, dopo diversi pensionamenti e altri pensionamenti che saranno prossimi, i medici che sono rimasti hanno un numero di pazienti molto elevato e poi in seguito anche a tutto il periodo legato alla pandemia sono veramente sotto forte stress e quindi è sempre più difficile. Si è provveduto, il sistema diciamo la regione ha provveduto a far rientrare con delle convenzioni, alcuni medici che erano già andati in pensione, però poi si sono create delle difficoltà riguardo alle funzioni che effettivamente questi medici possono continuare a svolgere la cosiddetta ricetta rossa, insomma come avevamo scritto nel comunicato, ecco la problematica è proprio quella perché questi medici sono di supporto ma devono essere in grado di riuscire a fare ciò che serve per i propri pazienti e visto che questo non era possibile abbiamo insieme ai comuni limitrofi dove il problema è comunque forte, Pergola, Frontone e San Lorenzo sollecitato affinché si ponesse soluzione a questa criticità e in generale per il futuro la mancanza di professionisti, la mancanza di medici di base così come di altri professionisti, medici e infermieri all'interno anche delle strutture ospedaliere è davvero un problema enorme. Sappiamo che non lo è solo nel nostro territorio ma nell'entroterra è già difficile contrastare lo spopolamento, diventa ancora più difficile continuare a vivere quando vengono a mancare servizi fondamentali come quelli legati alla salute. Ecco l'ospedale però verrà potenziato grazie al piano socio-sanitario della Regione? Sull'ospedale, sulla struttura, sull'ospedale come struttura sappiamo che legato all'edilizia sanitaria insomma ci sarà un investimento notevole, non ho io sinceramente conoscenza dei dettagli e con precisione del tipo di investimento che verrà effettuato, mi auguro di riuscire ad avere presto maggiori dettagli a incontrare anche gli assessori di competenza e la Regione per avere più chiarimenti. Al momento sappiamo solo da quello che abbiamo potuto anche vedere dalla stampa che ci sarà un investimento insomma notevole, cospicuo sulla nostra struttura che in parte era già stata oggetto di miglioramenti, di lavori, ma certo il PNRR è un'occasione fondamentale. Il rischio poi da scongiurare è quello di avere strutture ristrutturate, di avere strutture belle come edifici ma poi all'interno non avere i servizi, quindi tutti noi spingiamo e ci auguriamo che di pari passo si possa andare anche nel migliorare la situazione legata alla presenza di professionisti e servizi all'interno di queste strutture che saranno riqualificate. Lo leggemo anche all'interno del pronto soccorso, quindi poi magari chiederemo all'assessore di riferimento quali saranno tutte queste novità importanti e richieste da decenni. Invece per la nuova caserma dei Carabinieri è stato individuato l'immobile? No, allora per quanto riguarda la caserma nel momento quando noi siamo subentrati diciamo ecco come amministrazione quattro anni fa c'era un'ipotesi di un progetto legato ad un edificio di proprietà comunale che era l'ex Pretura sul quale era stato fatto un primo progetto per la realizzazione della caserma che attualmente da noi è in un edificio privato. In realtà non c'erano fondi pronti per quel lavoro e abbiamo diciamo cambiato valutazione ne è stato provato a partecipare a un bando lo scorso anno legato al PNRR su quell'edificio per un'altra destinazione. Al momento ecco la caserma è rimasta e rimane nell'edificio diciamo nel quale è da tanti anni. Passiamo ai lavori pubblici, iniziamo con le foto di alcuni asfalti, vediamoli qua. Ecco questo è un intervento eseguito, nel Capoluogo ho un'asfaltatura di alcune vie seguita qualche mese fa. Pergola ha veramente un numero molto elevato, insomma tanti chilometri di strade, le necessità sarebbero molte, sono sempre molte. Si cerca costantemente ogni anno di effettuare degli interventi sia nel Capoluogo che nelle parti più periferiche, nelle campagne. Le necessità, ripeto, sarebbero veramente tante, non è semplice anche perché il clima, il tempo non aiuta. Negli ultimi anni, insomma i danni che riscontriamo nelle strade soprattutto di campagna sono sempre maggiori. In questi quattro anni abbiamo cercato però di dare un forte impulso ai lavori per quanto riguarda le strade e adesso, in questi mesi, sinceramente siamo un pochino più in difficoltà in questo passaggio specifico, in questa primavera, per una carenza di fondi dovuta a varie motivazioni, diciamo così, tra cui anche la stessa alluvione che ci ha impegnato negli ultimi mesi del 2022 con dei fondi nostri, comunali, che abbiamo dovuto mettere a disposizione, anticipare, sì esatto, in attesa poi di quelli che dovranno ritornare dai fondi stanziati da protezione civile e dal governo. Però nel frattempo siamo rimasti indietro con altri lavori che dovevamo fare. Questi si avvereranno, prenderanno forma nei prossimi mesi e quindi abbiamo vari interventi, sia, ripeto, nelle campagne che nel capoluogo, l'asfaltatura, i lavori nella strada di Fenigli, grazie anche ad una parte di fondi regionali. Saranno lavori per 180 mila euro circa, di cui 100 derivano da un bando regionale, da un finanziamento regionale. Abbiamo un intervento anche a Cartoceto, nella frazione di Cartoceto sempre in una strada e un intervento anche nel centro storico, dove qui approfitto per portare un po' anche le difficoltà, non solo nostre, ma di tutti i comuni e in questo caso anche dei privati. Abbiamo un intervento di 50 mila euro sulle pavimentazioni del centro storico, che riguarderà più punti, non un'unica via, ma più punti dove ci sono delle criticità e i fondi li abbiamo stanziati a dicembre del 2021, poi per ben due volte la procedura di affidamento è andata purtroppo a vuoto, perché sappiamo bene anche da privati le difficoltà che ci sono state nell'ultimo anno riguardo anche alle imprese, nel reperire tecnici, ma anche imprese. Adesso finalmente siamo riusciti a trovare la dita che farà questo lavoro e quindi a dare soluzione anche a questo problema, proprio perché nel centro storico ci sono molti punti in cui c'è necessità di intervenire. Un altro piccolo asfalto per 40 mila euro e questi sono i primi interventi e poi nei mesi successivi avremo anche la riqualificazione di un parcheggio, che contiamo di fare a breve, del parcheggio in Viale Kennedy nei pressi proprio del semaforo nel centro storico del giardino principale e anche questa è un'opera che contavamo di fare con più anticipo ma poi non siamo riusciti, e un altro asfalto invece nelle frazioni in zona Cappuccini per altri 120 mila euro circa. Quindi ecco, nei prossimi mesi abbiamo davanti diversi lavori che finalmente si riescono a concretizzare per quello che riguarda le strade. Dall'estate, da subito dopo l'estate, poi riusciremo a recuperare anche quello che abbiamo perso in questa primavera riguardo alla manutenzione fatta con gli operai e i mezzi direttamente comunali. Anche voi ma che avevate rifatto il marciapiede, lì i lavori conclusi ormai da tanto tempo? Sì, lì sono conclusi già da un po' e nell'estate contiamo di finanziare altri tratti di marciapiedi sempre nel capoluogo. Ci sono stati gli interventi di riqualificazione, qui passiamo al capitolo delle scuole e poi andremo nel dettaglio, però vorrei partire con il parco della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido comunale dove sono stati abbattuti dei pini, però erano infestati dalla processionaria. In questo caso sono già stati sostituiti, prevedete di sostituire queste piante? Allora, il progetto si prevede, l'abbattimento di alcune piante suscita sempre un po' di clamore da parte di alcune persone che giustamente chiedono la sostituzione e reclamano il come sia sempre un peccato abbattere alcune piante, però lì si è reso necessario perché il parco era stato realizzato parecchi anni fa, le piante erano cresciute molto, erano molto vicine, infestate spesso da processionari e quindi si è preferito riqualificarlo nella sua totalità. Abbiamo riqualificato, a parte alcuni piccoli lavori all'interno, abbiamo riqualificato la parte verde esterna e la recensione, questa che vediamo nell'immagine è la recensione così come era e questa invece è la recensione nuova che è stata completata da poco nel suo tratto più grande, rimane poi un tratto laterale per il quale stanzieremo dei fondi nei prossimi mesi in modo da poter avere il lavoro tutto completo. Per quanto riguarda quella scuola, nido e materna, abbiamo anche realizzato un progetto per un polo complessivo e provato a partecipare ad un bando PNRR lo scorso anno dal quale purtroppo al momento non siamo riusciti ad ottenere i fondi, però ecco l'intenzione è quella per il futuro non solo di andare avanti con riqualificazioni di questo tipo ma anche di riuscire a reperire fondi per ristrutturare e riqualificare l'intero complesso scolastico. C'è stata una grande opportunità quella del PNRR, da lì siete riusciti ad intercettare dei fondi per i plessi scolastici? Allora il PNRR è sicuramente una grande opportunità, una grande possibilità. Devo dire che per quanto riguarda i comuni spesso non è così semplice perché le modalità poi la regolamentazione, le modalità insomma sono sempre molto complesse. Inoltre alcuni fondi che i comuni avevano già a disposizione sono stati poi fatti confluire nel PNRR e quindi poi le rendicontazioni diventano estremamente complesse. Detto questo comunque è sicuramente un'occasione molto importante. Abbiamo avuto circa 200.000 euro per quanto riguarda la parte transizione digitale quindi non per i lavori in sé ma per altro settore ma sempre fondi PNRR. E con il PNRR ripeto finanziati alcuni lavori edili e siamo in, diciamo che l'ufficio tecnico sta cercando di completare tutto ciò che serve per un intervento più grande che verrà effettuato in un padiglione delle scuole del villaggio scolastico quindi della scuola primaria in questo caso. Non siamo ancora alla fase in cui i lavori sono stati aggiudicati e quindi è tutto pronto diciamo così però contiamo di arrivarci proprio a breve nel giro di pochi mesi. Quindi anche dal punto di vista di efficientamento energetico o sismico delle strutture in sé? Sono lavori, sì, il finanziamento di cui parlavo è per lavori di quel tipo per tutti gli edifici del villaggio scolastico abbiamo in corso le progettazioni appunto per efficientamento energetico e miglioramento sismico e per un padiglione in particolare contiamo di riuscire ad ottenere di portare a terra effettivamente il finanziamento proprio per i lavori. Il passaggio al digitale invece è già iniziato o lo farete nei prossimi mesi? No, nei prossimi mesi. Ci sono stati in queste ultime settimane insomma decreti di assegnazione dei finanziamenti quindi tutta la parte burocratica e nei prossimi mesi, entro fine 2023 già la maggior parte di questi fondi prenderanno avvio. Allora, stanno arrivando diversi messaggi gliene leggo uno, poi andiamo in pubblicità e torneremo sugli altri. Le chiedono qua se per Monterolo verrà asfaltata? Va via. La via Monterolo? E le strade delle vicinanze? Allora, non so cosa intendono per Monterolo nel senso che la situazione nella strada di Monterolo verso Montevecchio quando quattro anni fa siamo arrivati c'era ancora una grande difficoltà riguardo alla frana che c'era stata in precedenza sulla Monterolo e quindi in quel caso però parliamo di una strada provinciale, non comunale quindi la strada comunale era stata messa a disposizione come via alternativa. abbiamo premuto sulla provincia affinché venisse riaperta la strada principale perché veramente per la frazione di Montevecchio in particolare era veramente un disagio enorme questo è avvenuto, adesso non ricordo bene il mese, insomma il periodo in cui è avvenuto è stata riaperta la strada principale però poi la provincia ha effettuato, ha preparato diciamo così un progetto che poi deve essere finanziato tramite la Regione è una cosa un po' complessa però per un lavoro molto grande che possa portare ad una soluzione definitiva perché per ora la strada è stata riaperta ma con un intervento diciamo minore che era possibile e fattibile in tempi brevi. Ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo a leggere i vostri messaggi. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Pergola Simona Guidarelli Cominciamo a leggere qualche segnalazione. Le chiedono intanto di sistemare le strade comunali vicinali di Monterolo ma anche le Cunette. Un altro telespettatore invece le chiede quando verrà fatto il marciapiede davanti al muro dello stadio e quando verrà sistemato quello esistente che necessita di urgenti interventi. Il marciapiede nei pressi dello stadio e tutta la zona di Viale Martiri della Libertà ha bisogno, ha sicuramente necessità di interventi. Quello che intendiamo fare, che purtroppo abbiamo dovuto un po' rimandare in questi anni io sinceramente inizio mandato, contavo di farlo con maggior anticipo ma sicuramente inizieremo entro l'anno, è riqualificare tutta la zona perché già nei primi mesi avevamo fatto un piccolo intervento appunto nei marciapiedi che sono rovinati dalle radici degli alberi che insistono in quella strada però ecco la cosa si ripropone molto spesso, i danni sono notevoli e quindi ecco quello che conto di fare è riqualificare, fare un progetto per riqualificare tutta la zona. Abbiamo una telefonata per lei, sentiamo chi c'è in linea. Buonasera, chiamo da San Lorenzo, nella prima parte del servizio, cioè della trasmissione è stato fatto riferimento al ripristino della ferrovia Fabriano Pergola come molti sanno questa ferrovia è stata chiusa tanti anni fa e solo recentemente sta avendo un uso diciamo turistico quello che io chiedo è che anche da parte delle amministrazioni di Pergola si dia conto a un collegamento veloce Si sente malissimo, Cristiana se puoi prendi la domanda così la facciamo direttamente al sindaco di Pergola le chiedono poi della situazione, dei lavori nella piscina di Pergola appunto Si, nella palestra piscina che abbiamo a Pergola che è di proprietà della provincia stiamo per, io mi auguro spero poter annunciare a breve un intervento notevole di riqualificazione della struttura non sarà sull'intera struttura inizialmente perché avevamo previsto un progetto diciamo maggiore un progetto più ampio poi con l'aumento notevole dei prezzi che è avvenuto nell'ultimo anno negli ultimi due anni quel progetto purtroppo al momento non sarebbe più ecorealizzabile con quelle cifre inizialmente previste nel frattempo sono cambiate diverse cose e la provincia probabilmente a breve interverrà su quella struttura in parte poi lo faremo anche noi insomma io conto nel giro di qualche settimana di riuscire a dare informazioni certe e definitive faccio sempre un po' fatica fino a che le cose non sono proprio chiare nero su bianco a promettere che un intervento si farà in un certo modo finché non ne ho la certezza assoluta ecco quindi spero di riuscire proprio nel giro di poche settimane perché sicuramente quello è un impianto molto importante per la città che ha bisogno di lavori ha bisogno di essere riqualificato. Buonasera le scrivono se non sbaglio era prevista tanti anni fa il progetto di una strada super strada pergola marotta ne avete più parlato recentemente? Beh allora la strada che collega pergola marotta è sicuramente una strada molto bella da un certo punto di vista per i turisti per chi la percorre no con calma però è una via di collegamento che crea difficoltà a chi la deve percorrere diciamo per lavoro insomma sicuramente la necessità di collegare pergola con la costa o con altre località in maniera più veloce è una necessità veramente forte anche con gli altri sindaci della vallata se ne è parlato in più occasioni in questi ultimi anni non c'è al momento ecco un progetto per lo meno insomma non abbiamo noi notizia no che si verrà realizzata una super strada in tutta la vallata di sicuro quello che noi chiediamo qui però il momento magari può essere favorevole visto i fondi PNRR visto tutto quello che si muove anche a livello di infrastrutture quello sicuramente che noi dall'entroterra chiediamo è che si creino le condizioni per avere delle vie di collegamento più veloce che ci portino comunque verso la costa che siano direttamente lungo la vallata o verso altre direzioni però la difficoltà enorme dei nostri paesi dell'entroterra è quella di avere vie di collegamento molto lente e questo ovviamente non non aiuta nel contrastare lo spopolamento che che abbiamo a proposito di collegamenti dovremmo aver ripristinato la telefonata pronto mi sente ora la sentiamo bene allora chiamo da san lorenzo e nella prima parte della della trasmissione si è fatto riferimento al ripristino del treno fabriano pergola questo come tutti sanno è un treno che alcuni anni fa aveva un uso commerciale poi è stato chiuso soltanto negli ultimi anni a un utilizzo turistico durante l'estate quello che io chiedo è che il ripristino di questa linea ferroviaria avrà senso soltanto se avrà un utilizzo pieno rispetto a un utilizzo turistico come questa come adesso quindi ripristinare la tratta commerciale però ancora di più favorendola con un collegamento veloce via bus diciamo tra pergola e la stazione ferroviaria di marotta in modo che avrebbe il cittadino che vuole andare a roma per esempio può passare benissimo da marotta a perla in modo veloce di non perdere tanto tempo prendere il treno e andare fabriano roma e al tempo stesso un cittadino che da fabriano vuole andare su milano su bologna troverà la facile coincidenza dei treni a marotta e questo sicuramente sarà un utilizzo molto ottimale secondo me grazie grazie a lei tra l'altro un intervento totalmente finanziato da RFI e anche quella regione c'è un grande lavoro proprio per questi collegamenti ferroviari ed è anche una proposta ragionevole da parte di un cittadino sì sicuramente non solo turistico ma non solo turistico ma commerciale se questo se poi la tratta ecco è sostenibile diciamo così nel tempo sicuramente potrebbe porterebbe dei benefici al territorio intanto queste corse turistiche sicuramente ecco sono una buona occasione è un'ottima occasione per portare visitatori nei nostri territori e pergola ma non solo allora prima di andare a vedere le foto che mi stanno proponendo dalla regia le vado a leggere altri messaggi allora quando partiranno i lavori di illuminazione pubblica per la trasformazione a led sì allora in alcune vie sono già state hanno iniziato insomma alcuni lavori a sostituire alcune lampade e nel giro di poche settimane prenderà avvio proprio ecco il lavoro in maniera più imponente ovviamente la sostituzione riguarda poi tutta la città quindi ci vorrà del tempo affinché si possa arrivare a compimento però ecco il percorso è già iniziato rispetto a dove da dove eravamo partiti diciamo così nel primo anno quando siamo subentrati come amministrazione abbiamo rivisto il progetto iniziale portandolo da 30 anni il progetto avrebbe impegnato diciamo così la città per 30 anni portandolo a 20 quindi riduciando il tempo e la sua durata poi il covid ha rallentato un po i tempi la gara essendo la cifra ecco abbastanza elevata comunque le procedure erano molto complesse quindi i tempi si sono un po allungati per varie motivazioni però finalmente siamo arrivati all'avvio di questo progetto di questo lavoro che sicuramente è indispensabile in alcune zone della città soprattutto le chiedono a notizie della dalla provincia per la sistemazione della provinciale barbanti fossombrone frequentata da tutti i giorni tutti i giorni da operatori ospedalieri pergolesi che lavorano nella vallata del metauro sulla barbanti sono stati effettuati degli interventi anche lo scorso anno negli ultimi anni anche lo scorso anno insomma dalla provincia in alcuni tratti purtroppo l'ultima volta ecco che quella strada no io ricordo era stata tutta resa molto più bella quando era abbiamo avuto la tappa del giro d'italia pergola tanti anni fa in quell'occasione la strada era stata rifatta completamente capisco che non sia semplice fare degli interventi così importanti anche così onerosi su su un tratto di strada così lungo sicuramente per la nostra città quel tratto è fondamentale negli ultimi anni sono stati effettuati dei lavori su alcune in alcune parti ecco non ho notizia in questo momento di alcuni lavori imminenti sicuramente nell'ultima nell'ultimo paio d'anni i tratti più rovinati sono stati già migliorati di certo però di contro ecco ci sarebbe bisogno di intervenire ancora anche se capisco ripeto che non sia semplice mantenerla sempre in ottime condizioni però per il nostro comune quella è una strada fondamentale torniamo un po' al discorso che facevamo prima le vie di collegamento sono difficili sono impervie sono lente moltissimi percorrono quel tratto lì e è fondamentale mantenerlo in condizioni migliori. Michi mi dicono chieda perché il sindaco di San Lorenzo riesce a prendere tutti i fondi possibili e immaginabili e da noi sono quattro anni che non si fa nulla. Sì beh allora il sindaco premesso che il sindaco di San Lorenzo è stato bravissimo ad ottenere tanti finanziamenti ci mancherebbe poi insomma il sindaco l'amministrazione i tecnici del comune ovviamente no si tratta sempre di un lavoro complessivo è vero anche che i tempi amministrativi sono sempre molto lunghi in generale in questo nostro primo mandato ancora di più perché il covid e l'emergenza hanno rallentato tutto e poi ancora anche l'alluvione insomma contribuisce a rallentare diverse cose normalmente nel secondo mandato il secondo mandato è quello nel quale si riescono a porre i progetti devono essere pronti i progetti devono essere pronti a priori ma i comuni fanno sempre fatica ad averli pronti non avendo mai tantissimi fondi per progettare appunto quindi è un po' un cane che si morde la coda ma comunque anche nel momento in cui si hanno progetti si partecipano ai bandi prima che poi i lavori vengano effettivamente realizzati spesso i tempi non sono brevi quindi nel secondo mandato diciamo solitamente si riesce ad attuare ad attuare proprio a concretizzare di più però oltre a questo devo dire che comunque non è proprio vero diciamo non sarei proprio d'accordo sul fatto che non è stato fatto niente che non è stato ottenuto niente come dicevo all'inizio adesso ci sono diversi lavori che stanno per partire nei prossimi mesi purtroppo a causa dei rallentamenti che dicevo prima ad esempio a parte i lavori sulle strade di cui parlavo sulle scuole ma anche per quanto riguarda finanziamenti ottenuti dal gal abbiamo diversi lavori che devono partire la riqualificazione dei locali a foro valerio ad esempio nel centro storico un intervento nell'ex scuola di cartoceto oltre ai percorsi cicloturistici quindi diciamo che molte cose purtroppo hanno subito dei rallentamenti forzati le chiedo due risposte brevissime quando sarà attivata la fibra ottica allora le notizie che abbiamo ci parlano di giugno le ultime notizie ufficiali ci parlano di giugno perché comunque i cavi sono stati stesi mancano poche cose manca il collegamento e un impianto insomma che che è necessario che però richiede tempi brevi quindi le ultime notizie da Open Fiber insomma ci parlavano di giugno e l'altra invece il minubus locale che girava per tutte le frazioni di pergola c'è oppure non c'è più questo servizio? questo servizio è stato interrotto negli ultimi anni in parte a causa del covid ma non solo anche perché diciamo l'autobus che il mezzo che girava spesso purtroppo era vuoto o quasi quindi quello che stiamo cercando di fare è di riorganizzare questo servizio con delle associazioni che già si occupano di trasporto sociale in maniera tale da renderlo anche meno dispersivo anziché far girare per tanti chilometri un mezzo più grande che poi trasporta nessuno o una persona o due quindi cercare di farlo anche su chiamata ma con l'aiuto ecco delle associazioni ci dicono ancora non ho sentito parlare del quartiere delle tinte in realtà ne abbiamo parlato all'inizio soprattutto per quanto riguarda l'alluvione l'ultima domanda perché poi vorrei parlare con lei degli eventi e dobbiamo chiudere la puntata le chieda come mai sembra che a Pergola sembra sia tutto complesso e come fa ad essere così convinta dei lavori futuri se non ha ancora approvato il bilancio di previsione che cosa rispondiamo interi spettatori? Beh il bilancio di previsione non è stato ancora approvato questo è vero così come non è stato approvato da tanti altri comuni il fatto che poi sia stata data una proroga di un mese a livello nazionale come era stato chiesto anche del lancio a livello nazionale vuol dire che i comuni che non l'hanno approvato entro fine aprile insomma non era sicuramente il problema del comune di Pergola ma di molti altri comuni proprio perché le complicazioni erano tante la certezza dei trasferimenti che arrivano dallo Stato è arrivata recentemente quindi c'è chi lo ha approvato in precedenza pensando insomma consapevole poi di dover fare altre variazioni dopo e chi ha atteso di avere informazioni certe ecco diciamo che il fatto di non averlo ancora approvato non credo che sia un qualcosa che porti a non poter avere consapevolezza dei lavori che riusciranno a prendere il via durante l'estate e durante l'autunno le chiedono anche di curare un po' di più il cimitero e in particolare il verde pubblico dunque dicevamo degli eventi quali sono quelli confermati per il 2023? allora oltre agli eventi principali come la fiera del tartufo la ciocco e visciola che abbiamo portato avanti negli scorsi anni tranne la fiera del tartufolo nel 2022 proprio perché era imminente all'alluvione di cui parlavamo prima quindi oltre a questi due quest'anno riproponiamo anche la notte verde nella frazione di Montesecco questi gli eventi principali diciamo curati direttamente dal comune poi sono numerosi gli eventi più piccoli con i quali comunque in questi ultimi anni abbiamo deciso di animare la città e soprattutto grazie alla collaborazione delle numerose associazioni proprio perché crediamo che sono importanti i grandi eventi che portano tante persone che portano anche il nome di Pergola fuori e anche oltre la regione però è importante anche dare vitalità alla città in maniera costante questo è importante sia per l'attività commerciale, per gli operatori ma anche per le persone stesse, per le associazioni per tutti coloro che si impegnano e che hanno piacere di fare qualcosa per ricreare un po' quel senso di comunità che forse si era un pochino perso e quindi ecco come amministrazione crediamo fortemente che il nostro ruolo sia quello di sostenere, incentivare, dare spazio alle associazioni e ai tanti volontari e alle tante realtà locali perché loro devono essere i protagonisti e non direttamente sempre l'amministrazione e questo processo diciamo si è attivato sono numerosissimi volontari che si danno da fare propongono che hanno modo di organizzare iniziative quello che vediamo adesso ad esempio Palazzi e Chiese Aperte è un'iniziativa molto importante della Proloco da tanti anni, da decenni a Pergola si parla del fatto che abbiamo molti luoghi bellissimi ma che spesso non sono fruibili quindi anche il turista che viene oltre al museo poi aveva poco altro da visitare nell'ultimo anno grazie alla collaborazione con la Proloco e numerosi volontari che dedicano parte del loro tempo molti di questi luoghi sono aperti in alcune giornate in particolare ma anche su prenotazione anche per piccoli gruppi e questo è molto importante per favorire quel turismo fatto non di grandi gruppi che arrivano tutti insieme ma anche di piccoli gruppi, di famiglie, di amici che però danno modo di animare il paese in maniera costante Sindaco, poi ne parleremo noi domani anche nel corso del nostro telegiornale ma venerdì scorso è stata presentata una bella iniziativa da parte della Fondazione Carifano che investirà circa 50 mila euro per ristrutturare o meglio restaurare che cosa? Sì, per un lavoro di riqualificazione della Cappella al Palazzolo e i lavori consisteranno sia in lavori edili che riguardano la facciata che il tetto che in un lavoro specifico sull'affresco, in un restauro dell'affresco però questo è molto importante, è un luogo molto bello che anche qui è doveroso da parte nostra preservare nella maniera migliore e rendere fruibile nella maniera migliore ai turisti Io la ringrazio per essere stata nostra ospite e speriamo di poterla riavere nei nostri studi durante la prossima campagna di Primo Cittadino Grazie mille Grazie, grazie a voi Un saluto anche ai nostri telespettatori un ringraziamento anche a Regia Cristiana Guerra e Riccardo Sora l'appuntamento con dell'informazione per domani mattina alle 7 e logicamente anche sui nostri social, su sito vi daremo tutti gli aggiornamenti relativi al maltempo Buona serata Grazie a tutti